Saluti miei cari, io sono Kryon, del Servizio Magnetico. In verità, io so dove mi trovo, so chi è qui e chi sta guardando. Questo è molto difficile da comprendere per molti, eppure voi riconoscete questa connessione tra i gemelli che si trovano in parti diverse del pianeta. Se un gemello sperimenta qualcosa, l'altro lo percepisce, lo sente, e dopo lo comprendono confrontandosi. Allora perché è una forzatura pensare che lo spirito vi conosca e sappia che voi state guardando questo adesso? È così, in effetti è così. L'intento di guardare questo, di godervi la canalizzazione, scoprire cosa dice, è conosciuto dallo spirito. Ci sono tante cose che avete bisogno di conoscere, è come accendere un interruttore, cari miei. Anche guardare questo programma è come accendere un interruttore perché c'è l'intento, affinché possiate sperimentare l'amore, la compassione. In questa serie di incontri di guarigione c'è qualcuno che guarderà e curiosamente sarà disinteressato a ciò che è la componente spirituale di questo. A volte salteranno totalmente la canalizzazione e in questo caso non ascolteranno questo. e andranno direttamente alla fine e diranno, io sono un essere umano con libera scelta, ma comprendo davvero che la coscienza può cambiare la struttura cellulare e percepiscono qualcosa in quella meditazione del cerchio di guarigione che facciamo. E così sono molto consapevoli dell'attraversamento di quel ponte, dell'attraversare la nebbia, di tutte queste cose, di camminare in un luogo multidimensionale che non riconoscono necessariamente come la loro anima, però dicono, questo è un posto in cui posso parlare a tutte le mie cellule e qui la mia coscienza può fare cose che non poteva fare prima. E la domanda è questa, puoi davvero guarire il tuo corpo pur essendo magari un ateo? Vale a dire, non credere minimamente nello spirito. E la risposta è sì. Ed è sì perché innanzitutto la coscienza guarisce. Non abbiamo detto la coscienza più un dottore guarisce, oppure la coscienza più un sistema di credenza nel divino guarisce. La coscienza guarisce. E questo è universale. Potete prendere qualunque tintura di omiopatia, che è un segnale per il vostro corpo, fatto dalla vostra coscienza, creando la tintura. Per fare questo non è richiesto quale sia il vostro sistema di credenza. Va direttamente nel centro della guarigione. Quindi parliamo di questo per un momento. Cryo, non ho capito dove vuoi arrivare qui. Voglio rendervi consapevoli del fatto che chiunque guardi questo programma, a prescindere dal proprio sistema di credenza, o anche se non ne ha uno, può andare in quel luogo che è vostro, a vostra disposizione, e lavorare sui miracoli di cui avete bisogno. Ma ritorniamo a chi ha posto questa domanda. Cryo, non sono sicuro di credere in te, ma mi piace la meditazione, mi piace dove andiamo, e sta funzionando per me. Ma io non credo in Dio. Va bene lo stesso? La risposta è, assolutamente sì. Tu vai sempre bene, agli occhi di colui in cui non credi. E quell'amore di Dio che non vedi o non riconosci, è sempre puro per te, e è sempre una mano protesa per te, in caso sceglierai di cambiare idea. Ma, cari miei, quella guarigione è vostra se la scegliete. Ma non è finita. Fatemi descrivere la metafora di chi ha posto queste domande e che non vuole partecipare per forza ad un sistema di credenza, che sia metafisico o no, o di qualunque tipo. Loro vogliono semplicemente lavorare con la propria coscienza e la propria struttura cellulare. Il migliore esempio, l'ho già dato, ed è questo. In qualche modo questa meditazione, siete voi a cui è stato messo a disposizione, 24 ore su 24, un aeroplano con piloti e carburante. E vi è stato dato per tutta la vita. e voi siete così emozionati. Salite su questo veivolo, è tutto vostro. E i piloti sono pronti per andare, e voi dite, andiamo. E allora decollate, e non vedete più una pista d'atterraggio per tutta la vita. Penso che stiate comprendendo, perché voi non credete neanche di poter volare, non credete nel volo. ma che bella macchina, e come velocemente può andare su e giù dalla pista. Non è meraviglioso tutto questo potere? E in effetti tutto questo potere, tutta questa coscienza, è vostro. ma cari miei, senza la componente spirituale, voi continuate a fare su e giù dalla pista. Un altro esempio che ho dato, è che entrate in un edificio, che è un edificio di guarigione, molto simile a quello che è il tempio dove andremo dopo. Entrate lì, con la propensione d'animo che avete, e tutto intorno a voi ci sono strumenti di guarigione, proprio come ci sono quando vi porto nel cerchio dei dodici. E voi comprendete anche la struttura, i frattali del dodici, perché questo non è per forza qualcosa di spirituale solamente. L'idea che la fisica sia su base dodici può essere scientifica e non entrare mai nella spiritualità, se lo scegliete. Diciamo quindi che entrate in questo edificio e ci sono strumenti su strumenti e voi iniziate ad usarli e ottenete risultati e dite sta funzionando, la mia coscienza sta funzionando. Io sto iniziando a guarire il mio corpo, mi sento meglio. Sto uscendo dalla paura e da tutte quelle cose che non mi servono. E poi, un giorno, scoprite l'ascensore. Abbiamo già utilizzato questo esempio prima in una canalizzazione, una parabola. E quindi scoprite l'ascensore e capite che ci sono nove piani sopra di voi di strumenti di guarigione. L'ascensore ha il vostro nome sopra. C'è scritto della vostra anima. Dice che il Creatore vi ama e sulla porta c'è stampato l'amore del Creatore per voi. Volete salire con l'ascensore? Oppure no? E lì, caro essere umano, è lì per arbitrio. Quindi potete risolvere questo puzzle in qualunque modo vogliate e siete comunque onorati a prescindere da come lo farete. Davvero, non ci sono regole di comportamento, di spiritualità su cosa credete, come credete e quanto è forte del vostro credo. Il Creatore vi ama a prescindere. È incondizionato. Cari miei, totalmente, completamente incondizionato. Quando arriveremo al cerchio dei dodici, più tardi, stasera, voglio trascorrere più tempo sulla sedia. E per poterlo fare, adesso, parliamo un po' della nebbia. perché quando incomincieremo, più tardi, andremo direttamente al ponte perché voglio che sperimentate un tempo più lungo in quello stadio in cui vi troverete durante la parte della guarigione. E quindi rivediamo quello che normalmente facciamo nel cerchio di guarigione stesso. inizia con il ponte e sempre lo farà. E ci saranno sempre domande riguardo al ponte. Bisogna attraversare il ponte per andare in questo luogo? Crayon si deve sempre attraversare il ponte. È qualcosa di necessario? Un concetto, un principio o un'assioma quando ci si sposta in un luogo multidimensionale? multidimensionale? La risposta è no. Non è una cosa che si deve fare ogni singola volta. Ma ciò che rappresenta, cari miei, siete voi che aprite una porta. Una porta verso un luogo in cui agirete in modo diverso. Sarete diversi. Perceperete cose che normalmente non percepite. È come un santuario, un tempio. un luogo in cui andate per essere e fare qualcosa di specifico. Per molti di voi si tratta di entrare in un luogo di adorazione. Siete abbastanza lineari da destinare questi luoghi proprio per queste cose. Quindi il ponte rappresenta questa porta e noi ci andremo sempre. Non è necessario per voi nella vostra meditazione superare il ponte e attraversare la nebbia. Qualcuno di voi può battere un ciglio e trovarsi istantaneamente in quel posto magico. Ma questa serie particolare di programmi vista da così tante persone e qualcuno è appena arrivato richiede la comprensione che il ponte è la rappresentazione dell'andare da una dimensione conosciuta e lineare in cui vi trovate in un luogo che è sconosciuto. e quindi ci sarà sempre in ogni meditazione del cerchio dei dodici che faremo. E vi diciamo anche che il ponte cambia forma e la voragine che scavalca è diversa ogni volta per voi. E questa è la metafora di voi che siete a vostro agio con il ponte perché rappresenta un attraversamento che è personale. Il ponte è solo per una persona che cammina a piedi? È per il traffico? È per un treno? E voi guidate il treno? Siete in una delle tante auto? Questi sono segni simbolici su cosa pensate rispetto al fatto di lavorare con voi stessi nell'ignoto. Avete bisogno di essere circondati da veicoli per farlo o potete solo camminarci. E naturalmente noi vi invitiamo ad essere da soli e anche a togliervi le scarpe. E poi vi conduciamo attraverso un muro che è la nebbia. E questa nebbia rappresenta quello scudo, quel muro, il passo finale in cui diciamo non fatelo a meno che non lo intendi veramente. in cui entrate in una parte di voi che non sapete di avere. La parte multidimensionale, quella parte vi permette di essere in due posti allo stesso momento come le visioni in cui potete stare seduti sulla sedia nelle tre dimensioni e allo stesso momento essere da qualche altra parte completamente benedetti. e questo senza separare voi stessi non è che alcune parti vanno in un posto e altre parti in un altro. Funziona così la multidimensionalità. Tutto di voi, tutte le vostre parti vanno e quindi vi trovate in due posti nello stesso momento. potete ancora sentire la temperatura della stanza in cui siete seduti e allo stesso tempo sentite qualcos'altro. Il vento dell'amore di Dio mentre entrate nella vostra anima e fate esperienza di qualcosa che non avete mai provato prima. vediamo tutte queste cose adesso perché più tardi stasera faremo questa parte abbastanza breve per andare direttamente in quel luogo magico e vederlo un po' più da vicino e passare più tempo sulla sedia in cui tutte le cose sono possibili perché la coscienza è sovrana e l'amore di Dio è lì anche e così è